bentornati nel canale delle burnio come avevo detto ieri nella live sarei passato nel sito per vedere le novità siamo appunto nel mio computer e questo è il sito di football allora intanto oggi hanno messo gli eventi a sorpresa hanno messo gli eventi worldwide clubs e ho visto già accendendo la playstation perché ho guardato cosa era questa cosa e ci sono sia gli eventi online che offline in offline però c'è scritto spanish league e vi danno punti esperienza preparatori di punti esperienza e gp mi pare a seconda delle partite il primo il worldwide clubs l'evento quello che fate online vi darà è a gol mi pare di aver visto cioè in base ai gol se passi le partite le cose ti danno punti esperienza e gp ok invece potete fare anche l'evento che si chiama spanish league però non sono solo le squadre di spanish league mi pare di aver visto e potete prendere anche altre squadre e completarle contro com e penso che si usi sempre la squadra creativa cioè la dream team poi la panoramica di gioco che volevo vedere ieri che non sono riuscito la vediamo adesso velocemente e aggiornamento 14 aprile bla 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 la squadra attentica bella squadra dei sogni e vi spiegano con un po come funziona sia la squadra attenta e squadra di sabbia la squadra attenta è giocare con le squadre più forti del mondo cioè le nuove squadre partnership e affrontare partite pvp online contro altri giocatori vabbè insomma ve le leggete poi qua vi spiegano la squadra dei sogni poi il concetto di squadra dei sogni e questa cosa qui volevo un attimino capire poi lo guardiamo come giocare per ulteriori dettagli sui controlli da un'occhiata all'immagine sottostante qui avete i controlli che volevo dare un'occhiata velocemente perché io non c'ho capito una mazza dei controlli allora dovrebbe aprirsi l'altra pagina esatto eccola qua è un po piccoletto però ed è in inglese comunque e qua sono quelli della playstation 5 però questi sono della playstation 5 comunque ci sono se voi ve li scaricate ve li guardate il volto del tocco il tocco della palla il controllo del tocco della palla poi c'è il sharp touch il dash la bella finta di corpo la finta di tiro e sono da playstation 5 questi mentre questi penso siano dall xbox proprio mettono playstation 4 che sono gli stessi quindi guardate di qua e il prezzo dicono che è free to play però ci sono acquisti all'interno del gioco disponibili ok le piattaforme compatibili il numero di utenti in cui si può giocare il playstation 5 e 4 vedete offline da 1 a 4 online da 1 o 2 utenti le partite cross gen che verranno implementate più avanti ma momentaneamente sono ps5 contro ps4 xbox serie xs contro xbox 1 poi qua se volete dare un'occhiata al vostro bonus veterani se ce l'avete così sapete se avrete dei premi in base a quello che avete fatto in pass 21 poi qui ci sono le modifiche che verranno attuate per il mobile e ci sono i dettagli ok e questo è quello che riguarda questa cosa qui la panoramica del gioco poi la stagione 1 dove viene spiegato viene spiegato la stagione 1 è quello che abbiamo adesso che è praticamente l'approccio al nuovo gameplay la costruzione della squadra e le licenze come football world introduciamo il nuovo concetto di stagione ogni stagione viene definita da un tema che riflette i più recenti trend del calcio il tema sarà inoltre al centro della tua esperienza come football poiché si rifletterà sui molti altri aspetti del gioco il tema della stagione 1 è new gameplay approach team building e licenze nuovo approccio della giocabilità appunto impostazione di squadra e licenze uno dei temi principali di questa stagione è il nuovo focus e miglioramenti al gameplay che ti permetteranno di sperimentare l'emozione dello scontro fra attaccanti e difensori proprio come nel vero calcio moderno un altro tema importante è quello della squadra dei sogni che ti permette di ingaggiare e sviluppare i tuoi giocatori preferiti per creare la squadra perfetta grazie all'infinità dentro abbiamo visto ieri c'è molta libertà di affinare giocatori e tattiche a piacimento potrai davvero comporre un team unico infine abbiamo aggiunto nuove licenze rendendo così il gioco molto più vario il football world fischia il calcio d'inizio della stagione 1 e parte con una calonata che sciocchi non perditi questo momento elettrizzante e poi c'è il trailer della prima campagna e poi c'è vedete passaggio calci sensazionali cambia il ritmo d'attacco in un istante grazie all'incisivo calcio sensazionale sfruttando l'inerzia della palla un passaggio sensazionale diretto al piede del giocatore potrebbe dar vita a una serie di giocate rapide potenziate potenziale fattore decisivo per liberarsi da una scomoda in pass un cross sensazionale invece il tiro sensazionale io gli ho guardato si fanno con la premendo insieme la corsa c'è la barra sotto della potenza vi deve diventare viola se diventa viola è un passaggio un cross un tiro sensazionale che sono più potenti diciamo poi il da eva è incrociato ah ci sono i filmati che ti fanno vedere vabbè ve li guardate voi perché adesso non voglio fare il video lunghissimo da eva è incrociato la diagonale fondamentale nel gioco di calcio non solo crea i spazi per ricevere i passaggi ma serve anche a respingere avversari ok poi c'è il i tocchi il passaggio a dare piede del regista intero stare intrati nel fiato vabbè questo sono i vari tocchi c'è il tiro sensazionale che appunto ve l'ho detto con la corsa e ti la sassata praticamente che è un po come il rocket shot che c'era l'anno scorso e quando poi c'è il raso terra il match quello lo specialista dei cross è stato nel momento più dato per lanciare una magia all'interno dell'area di rigore vi fanno vedere anche il filmato di questo poi ci sono innumerevoli mosse finali un cross mobilo che desidera solo di essere spinto diretto con una spizzata un assi stagliato e si hanno fatto anche i movimenti molto più accurati anche per segnare i gol cioè il tocco secco questo non riesco ancora a capire quando affronti i difensori la gestione del ritmo del dream è cruciale per assicurare l'attaccante una posizione di vantaggio osserva il pressing del difensore sul portatore di palla con passetti decisi poi con una falcata netta attacca lo spazio e essere spiazzato momento opportuno è questa la magia del tocco secco questo volevo guardare perché non ho mica capito cos'è sto tocco secco ci rimanda su youtube sarebbe il sharp touch perché tu vai piano piano poi ho capito qual era ok poi c'è la finta di tocco e vi fanno vedere è carino è fatto bene sto giro anche nel sito la protezione avete difeso il testa c'è il video cioè hanno fatto la spiegazione con tutti i video contrasto di spalla la novità che hanno messo che prima invece cioè facevi la difesa fisica ma l'uomo ma era tutto quanto storpiato al chiamo a pressi lo si fa io al momento ce l'ho sull'r1 perché io l'ho corso lasciato r2 automaticamente schiacciando una volta loro dicono che fino a tre giocatori per chiamare il pressi ma io ho visto ieri ho provato me ne partiva solo uno primo r1 e un giocatore andava verso il andava a pressare il portatore di palla e mi venivano fuori sotto delle freccette azzurre che penso che si possa che non possano togliere poi vedete poi c'è addirittura tutta la impostazione della squadra di sony viene spiegata se avete di dubbi venite qua e ci sono tutti i dettagli e poi le nuove licenze con la j league 2022 la ml spa la uslc e sono le nuove licenze e ci sono i dettagli ok qua è spiegato molto bene e questa era la stagione 1 poi note sulla patch e anche questo delle passaggi di ripetire in difesa neotrile se voi lo selezionate vi va direttamente a dove state leggendo e io volevo capire un attimo il tiro però fammi vedere il tiro ok abbiamo noto implementato una serie di miglioramenti per l'azione regina del gioco del calcio il tiro calcio con potenza mira ai piedi del portiere oppure gettati su un potente cross per deviare la traiettoria adesso potrei andare in porta con una serie di tiri che dipendono dallo scenario di gioco vabbè logicamente ci sono costruite sono costruite queste azioni bisogna portarli in animazione perché poi vengano effettuate dai nostri comandi allora i tiri sensazionali per aver ricevuto i tiri normali con la mia traiettoria a disposizione provare a segnale con un tiro sensazionale tuttavia poiché richiedono gli stessi stessi ampi movimenti e faccati di passare senza dovrei prima fare uscire gli avversari per creare spazi opportunità di tiro ma la potenza e attivazione dell'abilità un vero bomber in grado di infiare la parola in rete allora vedete c'è scritto riempimento della barra della potenza che non capivo allora per fare il tiro a scendere deve essere al 20 50 per cento circa il tiro di collo 50 65 il tiro a salire 65 95 ok ecco questo non l'avevo capito che era così poi tiri schiacciano per il calcio reale quando i giocatori hanno la possibilità di colpire la palla di testa o al volo li vediamo spesso indirizzata verso il terreno oltre ad aumentare la precisione del tiro infatti quello che risalto la batti per terra e la volta del pallone renderà più difficile l'intervento del portiere e questo non avendo abbiamo reso possibile le azionare volontariamente il pallone verso terra con il tiro schiacciato se la palla si trova una certa altezza a meno di 10 metri dalla rete colpendola con un tiro sensazionale con la barra potenziata almeno del 50 per cento la probabilità che il giocatore tenti un tiro schiacciato aumenteranno il giocatore che presenta la vita a colpo di testa ha una probabilità più alte di eseguire colpi di testa verso il basso però di fare un tiro sensazionale al 50 per cento per fare questa animazione ok grande varietà di movimenti di tiro questo lo so e poi c'è qui c'è il dribbling ok che se sia il tocco il tocco secco è la corsa colpire la corsa di vediamo come fa ti vale a non avere un tocco secco eccolo qua per attivare un tocco secco muove la levetta a sinistra nella lezione in cui desideri spingere la palla e premi contemporaneamente r2 rt a a fondo r2 rt però rt bisogna vedere che cosa deve avere 2 alla corsa l'art sarà logico di destra a fondo prima di rilascialo di colpo oltre che con un tocco frontale puoi spostare la palla anche lateralmente addirittura in direzione opposta a quella in cui il giocatore sta correndo queste particolante utile per sperare i difessori che corrono alto a fianco dal momento che cambierà a bruciapela un ritmo a direzione però bisogna capire che cosa rt questo secondo me il tocco secco è fondamentale per attivare un tocco secco è così quando esegui un tocco secco vedrai un doppio cerchio attorno al piede del tuo giocatore al tocco successivo sposterà la palla ancora più lontano del suo piede come potente l'azione richiede più tempo se esegui il comando mentre la palla è lontana dal piede del giocatore in questo caso rilascia semplicemente la vetta a sinistra per annullare il tocco secco e qua ci sono gli effetti del tocco secco però allora a questo punto vado un attimo sui tasti vediamo cos'è sto rt aspettate che torno su e i tasti erano qua qua cos'è sto e che tasto è l'RT sarà l'analogico di destra scusa rt r2 rt non c'è neanche scritta ragazzi qua aspettate che ingrandisco un attimo facciamo così c'è dov'è sto r2 rt scusa la finta di tiro a me poi per fare la posizione per intercettare il passaggio e mettersi proprio davanti al giocatore si fa con l'2 r2 r2 più rt alle due r1 infatti è l'intercettazione al blocco alle due ma mi sa che quello lì lo metterò sul quadrato perché ieri ho parlato ieri con Stefano Ferrari sono andato nel loro live e sia Stefano che Ken hanno modificato più che altro Ken ha modificato che è molto bravo e ve lo consiglio di seguire su Twitch è molto bravo ha modificato ha messo i tasti così ha messo sul quadrato ha messo ha messo l'L2 e l'ha spostato sul quadrato beh sto rt non so ma io penso sia cioè l'L2 e la corsa prima si faceva un tocco secco su R2 e si spostava la palla adesso non lo so allora mettono R2 e RT non so allora cosa intendono RT boh bisognerà che provo perché qua non ci sono scritti perché vedete standing kick sharp touch con la R2 e il dash ma forse il tocco secco è il sharp touch quindi si fa solo con la R2 cioè si fa un colpo secco sulla R2 e dai è rimasto uguale non so perché l'ho messo R2 barra RT ma non c'entra un cazzo ok dai si è fatto il tocco secco sulla corsa lui si allunga dai come prima e scegli da che parte farlo vabbè ho capito dai è così è come prima uguale e poi si apre note sulla patch il tiro l'abbiamo visto che era la cosa il tocco secco passaggi e vabbè poi qua ci sono tutte le altre cose volevo vedere altri nuovi contenuti aggiornamenti futuri vediamo cosa dicono aggiornamenti futuri includeranno funzionalità che ampliando enormemente la facilità di gioco annuncieremo in seguito ulteriori dettagli compreso il programma delle date di pubblicazione aggiornamento alla versione mobile presto sta disponibile aggiornamento di futuri pass che vabbè lo farò perchè io ce l'ho il mobile vi ricordo il pass partita completi punti speciali come affrontare un certo numero di partite per minare il premio fantasy un esempio di complesso ottenere tramite il pass partita e il contratto mirato un oggetto che permette di scegliere quale giocatore ingaggiare ok poi ci sono gli obiettivi ottenere i premi per completare le specie missioni cross platform mettendisi console cosa fa vabbè questa è solo una punta dell'iceberg in futuro arriveranno tante altre funzionalità tramite aggiornamenti gratuiti e dlc ah ok per comunicare le modalità amatissime dei nostri fan come il campionato master e la modalità modifica comuniceremo ulteriori informazioni non appena possibile quindi continuate a seguirci inoltre con l'aggiornamento abbiamo portato varie modifiche giustamente al gioco di calcio immergersi nell'esperienza di eFootball e continua a condividere con noi il tuo feedback per offrire ai nostri fan di tutto il mondo il gioco di calcio che merita continueremo a migliorare il nostro titolo ci rivediamo al prossimo aggiornamento direi che qua ragazzi ci avete tutto nel sito venite qua vi leggete tutto se avete dubbi cercate tanto è suddiviso come avete visto è suddiviso proprio per settore che magari voi non sapete una cosa sulla scivolata sul contrasto venite qua e vi trovate anche il piccolo video hanno fatto una cosa fatta bene cioè è spiegato tutto benissimo venite qua ve lo leggete è un po' lunghino qua avete l'assistenza se avete dei problemi con la play e le licenze ah a proposito ieri sempre durante la live di Stefano Ferrari non capivo come vi ricordate che ieri vi ho detto ah punti football ne ho zero ieri dei ragazzi che erano lì in chat durante la live hanno praticamente ci hanno praticamente spiegato perché io non ci avrei pensato ma forse era anche logico per riscattare i punti e football che magari avete da pass 21 o dal mobile dovete selezionare andare nei punti e football e niente dovete praticamente selezionare un giocatore o un oggetto e vi aprirà il codice QR vi viene fuori il codice QR e voi dovete andare col cellulare scansionare il codice QR e vi richiederà la username e la password del vostro Konami ID una volta che avete vi siete logati con il Konami ID uscite da dovrete accettare le solite condizioni della privacy poi uscite dalla schermata e rientrate e vi darà i punti e football ok? un saluto a Nedele Burnio per oggi è tutto ciao 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 ciao